ciao a tutti oggi prepareremo la parmellata di cipolle di tropea il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più tre ore per la macerazione ingredienti sono cipolle di tropea sbucciata e tagliata a fettine sottili zucchero semolato zucchero di canna vino bianco brandy o cognac foglioline di alloro e uva sultanina ammollata andiamo via alla ricetta in questa prima fase che metteremo a macerare la cipolla non utilizzeremo i bimbi per cui andremo ad aggiungere nel contenitore dove abbiamo messo la cipolla lo zucchero di canna lo zucchero semolato aggiungiamo il vino bianco il brandy o il cognac e adesso andiamo a mescolare adesso aggiungiamo le foglie di alloro e lasciamo macerare di tanto in tanto andremo a mescolare il tutto andiamo a coprire con un canovaccio e lasciamo macerare da parte in un luogo fresco e asciutto trascorse le 3 4 ore che abbiamo lasciato a macerare la nostra cipolla adesso andremo a cuocere versiamo il tutto all'interno del boccale noi abbiamo già tolto le foglioline di alloro facciamo cuocere per 30 minuti temperatura varoma velocità 1 andiamo a togliere il misurino e a posizionare il cestello adesso aggiungeremo l'uva sultanina che avevamo precedentemente ammollato mescoliamo un po con la spadola andiamo un poco sul fondo del boccale proseguiamo la cottura sempre con il cestello al posto del misurino proseguiamo la cottura per altri 10 minuti temperatura varoma velocità 1 la nostra marmellata è pronta andiamola a mettere in dei vasetti di vetro marmellata di cipolla di tropea grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti